Finalmente una buona notizia nel travagliato percorso di riconsegna alla città del teatro comunale. I 5 milioni promessi per completare la ricostruzione sono stati stanziati. La conferenza Stato-Regioni ha approvato il consistente finanziamento per poter completare l'opera. Fondamentale è l'intervento del ministro per la cultura Gennaro San Giuliano, con cui il comune aveva da tempo intrapreso una fitta interlocuzione. Lo stanziamento ha ricompreso nell'ambito del piano strategico grandi progetti beni culturali promosso dal ministro della cultura e sarà inserito in un decreto ministeriale apposito, che dovrà essere vagliato ora e registrato dalla Corte dei Conti. Lo stesso sindaco si è detto molto fiducioso sull'esito dei riscontri che dovrà effettuare l'organo contabile giuridizionale dello Stato. L'annuncio degli ulteriori 5 milioni di euro a disposizione per il completamento del teatro comunale fu dato lo scorso febbraio proprio all'Aquila dal presidente della regione Marsilio, in occasione della firma con il premier Meloni dell'accordo di coesione. Di certo è un passo in avanti importante per le consegne del teatro comunale, sollecitato in questi anni anche da vari artisti che hanno partecipato ad eventi e alla stagione del teatro stabile abruzzese. Un luogo troppo significativo per essere ancora chiuso a 15 anni dal sisma. La speranza è poterlo riaprire al pubblico per il 2026, quando l'Aquila sarà capitale italiana della cultura. A livello di lavori il grosso è stato fatto sia all'interno che all'esterno, ma manca ancora una parte di lavori per il miglioramento sismico, la parte scenotecnica, gli arredi, il palcoscenico con gli allestimenti, tutto apposto dal punto di vista del progetto. Il comune già aveva annunciato che nella fase successiva, quella di ora quindi, d'accordo con il segretariato, il lavoro tornerà in capo al comune che tenterà il tutto e per tutto per accorciare i tempi e ridare agli aquilani prima possibile un luogo sacro di cultura in centro storico che ha assaporato negli anni qualità e grandi produzioni.